Ma nello stesso tempo sarà l'anno in cui con delle nuove linee sul ferro, quindi dei nuovi tram, come ad esempio il tram che dalla metro C di Lodi collegherà la piazza davanti alla chiesa di Santa Croce in Gerusalemme e quindi la stazione Termini, Parioli e tanti altri luoghi della nostra città. Insomma, nuove vie del ferro, nuovo trasporto pubblico.